Buonasera e bentornati su GDR Pilot, era un po' che non ci si sentiva, i motori ormai sono spenti da quel dì, bisogna dargli un attimino una scossa per cercare di far ripartire questo vecchio biplano di qualche tempo andato. Ci riproviamo con un gioco interessante, si chiama Sail the Stars, prodotto dalla Pompei Crew Design, è un gioco che include, o non include, non lo so, è GM-less, dice-less e senza alcuna preparazione. Ci troviamo con i nostri giocatori a testare e a provare questo gioco particolare, sono molto curioso di vedere come uscirà. E vediamo, vediamo, con chi siamo, partiamo con le presentazioni così come mi vengono fuori in Roll20, chi abbiamo tra i giocatori? Andiamo, due dei quali non hanno mai giocato con me, il che mi rende molto contento. Chi abbiamo, chi abbiamo, su su, parlate, parlate! Tommaso? Ciao a tutti, sono Marco. Io sono Enilo. Buonasera a tutti, Antonio. Due sono, Nilo e Antonio, ormai sono, diciamo, siamo giocatori fissi, mentre invece, appunto, Marco e Tommaso sono nuovi, sicuramente su questo canale, ma su questo canale sono nuovo anch'io, in verità, tant'è che mi sono completamente dimenticato come si facevano le cose, come si facevano le dirette, speriamo che stia funzionando tutto. E dunque, dato che questo gioco si propone proprio per essere giocato senza alcuna preparazione, l'impostazione che ho voluto dargli è stata quella di, e tra l'altro il regolamento è scritto in otto carte, l'impostazione che ho voluto dargli, e abbiamo voluto dargli è quella di leggere direttamente in diretta queste regole. Chiaramente sono scritte in inglese, io non le ho tradotte perché c'è ho voglia a riederci, pertanto speriamo anche che le capacità di traduzione, le nostre capacità di traduzione siano all'altezza, ma sono sicuro che Nilo sarà perfettamente in grado. Soprattutto la cosa bella è che stiamo tentando di spacciare un gioco senza preparazione, affrontandoli invece con l'idea pura dell'ignoranza, nel senso che l'ignoranza assoluta ha anche delle regole, che impariamo al volo. Certo, ma otto carte, otto carte di regole. È l'estremismo del senza preparazione. Esatto, c'è scritto senza preparazione, uno guarda le cose così come sono scritte, no? Luca, mi stai dicendo che devo rallentare quella birretta perché devo tradurre. No, allora, dunque, abbiamo detto appunto le regole sono in otto carte e partiamo direttamente dalla prima, cioè qual è il setup del gioco? La metto direttamente in... bisognerà fare questa cosa dell'allargarle perché purtroppo sono un po' piccoline. Dunque... I cogli che guardano di mettere gli occhiali, così vedranno meglio. E allora, secondo che qui tra OBS, Impicci e Brogli... ok. Allora, uno setup. Per giocare a questo gioco occorrono queste carte, grazie. Da 3 a 5 giocatori e qualche ora per una storia. Seguire queste carte regole in ordine, seguire queste regole di carte in ordine. Le storie sono non correlate tra di loro, i personaggi sono reinterpretati per ogni volta. Se nel vostro gruppo... cioè, se non si ha molta esperienza nel gruppo con i story games, giochi narrativi... Review and discuss the technique cards before the break... Ah, ok. Leggetevele e discutete le carte tecniche prima di procedere. Vabbè, tanto ci sono anche quelle, quindi non è un problema. Siamo avanti, lo siamo già facendo. Ok, passiamo a settings. Questa la cancelliamo. Settings. Dai, chi si legge la seconda carta? Avanti, non c'è GM, quindi non c'è qualcuno che si deve prendere tutta la colpa. Finché sono sobrio vado io. Allora, il setting è generalmente utopistico e transumanistico. È da leggere il setting base. Ok. Se vuoi descrivere il setting in maniera più esplicita, discutine con i giocatori e decidi... Quale lato? Sì, perché ogni carta di settings ha un dritto e un rovescio. Ok, dunque è rigiocabile. Sì, sì. Ok. E queste cose le si può cambiare anche durante la storia. Dunque puoi girare una carta, tipo, immagino. Ok, abbiamo fatto il setting, vediamo le storie. Vai, vai, qualcuno legga. Non c'è il GM, signori. Non c'è il GM, abituatevi. Chi pilota sto aereo? È un aereo pilotless. Ok, scegliete una storia, leggetela ad alta voce, alcune sono politiche, altre scientifiche, eccetera, e lavorano con differenti personaggi. A questo punto ogni giocatore aggiunge un dettaglio specifico, quindi eventi recenti sulla nave, piccole parti pertinenti di storia, nomi o simboli di ogni gruppo, attitudine del pubblico, c'è anche un pubblico, eccetera, eccetera. Penso che intenda proprio attitudine della società, attitudine della società. La res pubblica, ok. Esatto, penso la intenda in quel senso. Ok, siamo andati per quanto riguarda la storia, adesso vediamo con i personaggi. Allora, leggere tutte le carte personaggio ad alta voce e sceglierne due. Uno è il personaggio principale. Le domande, vedremo poi che ogni carta personaggio ha delle domande, e devono trovare risposta in gioco, non nel momento in cui vengono scelte. Riferito in question... Ah, ok. I personaggi che si riferiscono nelle domande ad altri devono... must belong to another player, devono appartenere ad un altro giocatore? Sto traducendo bene? Sì. Almeno sì. Le sfere, le abilità in basso... It's your area of interest and authority. Ah, le sfere abilità in basso mostrano aree di interesse e di autorità. Inventate personaggi minori o terziari per come occorre. Non può essere autoreferenziale, devi comunque involvere qualcun altro nelle tue domande. Il tuo droide da compagnia o il tuo schiavetto è manovare. Esatto, sì. Tutti i personaggi secondari possono essere inventati, diciamo, sul momento. Vado io magari? Vai, vai. Aspetta. Agende, le agende. Leggi le carte dell'agenda della storia scelta. Aspetta. Le carte dell'agenda segrete sono distribuite randomicamente. Invece le carte pubbliche sono a scelta libera. Sì. Esatto. Le carte dell'agenda vanno applicate solo al tuo personaggio principale. Le carte dell'agenda di... Aspetta. Di un personaggio non principale... Posso essere scelte liberamente se diventano rilevanti. Le carte dell'agenda possono cambiare durante la storia. Ok. Quindi diciamo che nella modalità più base noi avremmo due personaggi di cui è una carta dell'agenda da piopare al personaggio principale. Nel caso potremmo pescarne un altro se funzionare alla storia e da pioparla al comprimario. Anche perché, per esempio, supponiamo che il primario muore, suppongo, allora in quel caso magari in secondario si prende un'agenda. Sì. Poi ricordiamoci che le agende possono cambiare. Quindi magari anche, penso che è il principale, vuol dire, magari non va più bene per contesto, cambia. Esatto. Ipotesi, eh. Poi vediamo. Sesta carta regola, che sarebbe la prima scena. Sotto a chi tocca. Ah, vedo, c'è dell'imbarazzo. Il gioco funziona, la tensione si taglia già col coltello, veramente, già le regole. Dai, fate a turni per impostare le scene. Tutte le scene hanno un personaggio principale e almeno un personaggio interpretato da un altro giocatore. Poi qua ci sono un po' di proposte, un po' di input, l'apparenza, dove sono, con chi sono, che cosa stanno facendo. Cioè praticamente ti spiega tutto. La prima scena introduce i personaggi principali e di usare la quota, la loro quota, che ogni carta ha una quota, diciamo. Sì, ha un'esperienza. Ok. Comunque si ti spiega tutto step per step. Sì, sì, è proprio, è a prova veramente, boh, ok. Vediamo. Altre scene, sì, sì, vediamo, perché poi i giochi così strettamente, i narrativi sono un po' particolari. Altre scene. Dai, sotto, sotto, su. Io ho già lette due, eh. Le scene continuano. I giocatori esplorano le proprie agende dei personaggi. Il sol, in pratica, dicono risposta alle domande e aiutano gli altri giocatori a fare lo stesso. Usa le sfere come un'ispirazione. Le scene iniziano quando un personaggio agisce e finisce quando un altro giocatore, sei su, cioè, in pratica, no, agisce, solta, fammi capire. Sì. Vai all'epilogo quando ogni giocatore ha eseguito quattro scene, oppure tutti i conflitti importanti e sostanze risolti. Ok, quindi abbiamo una prima scena a turno in cui presentiamo il personaggio principale e poi, alla quarta scena totale, chiudiamo. Ho capito, il personaggio principale di uno e il secondario dell'altro. Sì. Così, in pratica, il secondario passa di sia il principale del giocatore B, che poi il giocatore B presenta anche il secondario di C e diventa una catena, in pratica. Ho capito bene. Ma penso sia più libero, nel senso che la prima scena c'è per forza il principale e eventualmente puoi chiamare in causa anche altri personaggi, ma probabilmente è come i titoli di testa, quella in cui vedi il personaggio per la prima volta e è focalizzata ognuna sul primario di ognuno. Sì, perché semplicemente dice che tutte le scene devono avere il tuo personaggio principale e al minimo un altro personaggio di un altro giocatore, quindi si può scegliere tranquillamente se includere un secondario o un principale. Non è importante da quel punto di vista. Sì, ho detto male il se vuoi, al minimo. Se fosse obbligatorio. Ultima, ma non meno importante, l'epilogo. Ok, ogni giocatore domanda ad altri due di dire cose fatti circa il personaggio, circa il fato del loro personaggio principale e quindi imposta una breve scena in cui questo viene viene visto. Quindi, discuti le tue domande e quali relazioni e personaggi ti sono piaciuti e che tipo di storia e cosa pensi della storia in generale. Grazie per aver giocato. Complimenti per la vostra scelta. Aspetta, ringraziarci, gioco. Aspetta. Tu non sai che giocatore è davanti. Allora, come vedete, le regole sono veramente, io le avevo già lette chiaramente, però sono veramente limitatissime. Sono da un lato limitatissime e dall'altro lasciano un campo d'azione veramente immenso a quello che si può fare perché non è che c'è esattamente, non ci sono binari impostati se non quello, diciamo, del setting e della storia che ti vai a scegliere e poi quello dei personaggi, ma poi leggerete piano piano che in verità non c'è nulla, è tutto lasciato effettivamente alle varie agenda che ogni personaggio, che ogni giocatore sceglie e personaggio esegue, tra virgolette, anche se poi queste sono mutevoli e pertanto come tutti i giochi strettamente narrativi a me è capitato con The Skeletons, effettivamente ti può lasciare un senso di, oddio, e mo' che faccio, di spiazzamento, perché questo gioco è proprio creato, io credo, con uno scopo profondamente narrativo, anche perché poi abbiamo letto che si giocano quattro scene a testa, quindi quanto può essere lungo in verità, però, insomma dipende anche dai giocatori, bisogna vedere poi nel concreto per mai il giocatore si mette lì a dire, ma guarda quattro scene a testa per cinque giocatori sono tante, eh, in verità sì, per cinque sì, per cinque sì, e poi comunque Antonio lo sa, undici puntate e chiudo qui, non diciamo altro, domanda, domanda, conta come una scena compiuta, quando tu partecipi nella scena di un altro giocatore, perché cambia estremamente allora la lunghezza. Secondo me no. Ok. Perché allora cambia. In qualsiasi momento un giocatore lo decida, quindi potremmo anche farci veramente scene da tre battute in ascensore, e poi si apre l'ascensore e già dichiariamo che si va la scena dopo. Esatto. Però vale come una scena quando il giocatore la propone. Esatto. Ok. Dunque magari bisogna, alla fine non c'è una scheda personaggio, però bisogna semplicemente, ho un foglio qua, con i nostri nomi, bisogna tenere a mente quante scene uno ha fatto. Magari ognuno tiene a mente le proprie. Sì, magari ce lo scriviamo, magari lo posso scrivere proprio col tool di Roll20 direttamente sul nome, no? Così almeno abbiamo sempre il riferimento, insomma, senza che ci andiamo a impicciare.